Ciao, bentornati o benvenuti sull'aereo del pensiero non lineare. Sono la dottressa De Maio, psicologa clinica, ed anche oggi sono qui con voi per continuare un po' insieme questo viaggio alla scoperta della psicologia. Il viaggio di oggi sarà un viaggio non troppo lungo, vi guiderò infatti in una trappa non troppo, diciamo, lunga, e sarà un viaggio centrato e concentrato in particolare su un concetto ben definito. Ho deciso di dedicare quindi questo viaggio a, in particolare, un autore russo, Vygotsky, e al suo concetto di zona di sviluppo prossimale. Questo perché? Perché come a breve vedremo, questo piccolo concetto è in realtà ancora molto attuale e mi è ritornato, per così dire, alla mente perché durante le mie consulenze cliniche, non di rado, anzi spesso direi, ci sono genitori che magari non sanno bene come muoversi quando si tratta di apprendimento. In linea generale spesso succede che, siccome ci troviamo in un'epoca in cui le informazioni sono tante e spesso anche contrastanti, non riescano a comprendere se in realtà nell'apprendimento dei propri figli sia davvero necessario l'aiuto dell'adulto oppure se sia un qualcosa che spetta al semplice scambio ed interscambio tra bambini. Quindi mi viene chiesto se in sostanza sia necessario l'apporto dell'adulto oppure se basta soltanto il confronto con il mondo dei pari. Facciamo una cosa a loro. Allora, trovate il vostro posto sull'aereo del pensiero non lineare, allacciate le cinture e partiamo insieme per una nuova tappa di viaggio con la psicologia. Che cosa si intende allora con il concetto di zona di sviluppo prossimale? si definisce come quelle funzioni che non sono ancora mature ma sono in processo di maturazione. Sono quindi delle funzioni che matureranno domani ma sono al momento in uno stato ancora embrionale. È un concetto fondamentale che serve a spiegare come l'apprendimento del bambino si svolga in realtà con l'aiuto degli altri. Questa zona quindi è definita come la distanza tra il livello di sviluppo attuale e, attenzione, il livello di sviluppo potenziale che può essere raggiunto con l'aiuto di altre persone. In questo momento si apre una piccola differenza con un autore che abbiamo conosciuto nelle nostre passate tappe che abbiamo fatto insieme e quindi c'è un piacere. Per piacere infatti sappiamo che il bambino e lo sviluppo del bambino passa attraverso degli stadi. Per il bambino che cosa fa? Impare in sostanza da coloro che si trovano ad un livello di conoscenza superiore e quindi qui c'è un'analogia con un concetto invece tanto caro a Brunner che è quello di scaffolding. L'apprendimento infatti all'interno della zona di sviluppo prossimale è possibile per l'esistenza dell'intersoggettività. Ricordiamo questa parolina molto importante che è un modo comune di vedere le cose che si basa sull'esistenza di un punto in cui concentrare l'attenzione. I psicologi socioculturali usano la metafora di scaffolding o impalcatura proprio per indicare quel sostegno che viene dato al bambino quando apprende. Infatti l'impalcatura che cosa fa? È un qualcosa che aiuta e sostiene gli operai per un certo tempo, il tempo appunto di svolgere ad esempio un compito, una funzione. Molte persone infatti che cosa fanno? Sostengono temporaneamente le abilità emergenti di un bambino. Molte persone quindi non ci diciamo rivolgiamo soltanto magari agli insegnanti, al pari o ai genitori. Tutte le persone che vanno ad interagire con il bambino stesso. Tuttavia è sia il comportamento del bambino ad influenzare il comportamento dell'adulto che viceversa. Ed è qui la potenza e l'importanza dell'intersoggettività. Si tratta di due soggettività che entrano in gioco, due che poi ne sono in realtà anche di più. Diciamo in questo caso ci rivolgiamo magari ad un rapporto diatico che avviene quindi tra due persone, magari insegnante e allievo oppure genitore col proprio figlio. Ovviamente le soggettività con cui si entra in relazione sono molteplici, tante, varie e vaste nel corso della vita o di un certo momento. Però se prendiamo lo scambio diatico che cosa accade? Che l'altro viene modificato da quella relazione che si va a creare ma anche noi stessi. Quindi diciamo le persone che si trovano ad interagire in quel momento escono entrambe modificate e cambiate dalla relazione che si è andata a creare in quel momento. Non si tratta quindi di ad esempio considerare il bambino come una tabula rasa, qualcosa che va riempita di concetti, ma si tratta di crescere e modificarsi da questo scambio che sta avvenendo, anche se si impara da una persona che è a un livello ad esempio di sviluppo cognitivo, sociale più elevato. La rogo fatta al proposito parla di partecipazione guidata, quindi si intende con ciò un bambino e un adulto che collaborano in attività quotidiane di soluzione di problemi. Gli adulti guidano i bambini aiutandoli ad adattare la loro conoscenza ad una nuova situazione e li incoraggiano a provare le loro nuove capacità. Quindi questo è il motivo per cui dicevo e sostenevo che non si tratta di andare a riempire semplicemente la testa per così dire di un bambino di concetti, ma si tratta di fargli da guida, di mostrargli e renderlo capace poi di mettere in atto anche da solo quelle conoscenze che sono state appunto apprese, che sono state viste e quindi di mettersi alla prova, che è una cosa molto importante che spesso sottovalutiamo perché c'è quasi un certo timore, una certa paura a far mettere alla prova e mettere alla prova magari i bambini e invece è qualcosa di molto importante perché la conoscenza si rinsalda e evolve e si consolida proprio nel momento in cui viene messa in atto. Bene, anche per oggi il nostro piccolo viaggio è giunto al termine, spero che sia stato di gradimento. Se ci sono curiosità, feedback o volete interagire con me potete lasciarmi un commento, sarò bellita di rispondere. Commenti ovviamente, lo ripeto, che siano pertinenti al nostro viaggio, altrimenti non saranno neanche presi in considerazione. Vi invito a slacciare le cinture, a lasciare anche il vostro posto sull'aereo di Viaggio con la Psicologia, ma non allontanatevi troppo perché l'aereo del pensiero non lineare e di Viaggio con la Psicologia partirà molto presto per una nuova tratta e allora alla prossima. Ciao!